Se tu vuoi comportarti normalmente con il cosiddetto disabile, la disabilità non c'è più, lui è normale. Però se noi partiamo con i nostri preconcetti di essere gentili perché poverino è disabile, abbiamo già creato quella famosa differenza, la creiamo noi, non l'handicap che indubbiamente avrà delle questioni pratiche diverse, delle difficoltà pratiche, questo non lo metto in dubbio, ma a livello di relazione è lì il punto, cioè bisogna far cadere questi cassettini in cui noi vogliamo sempre classificare le persone e in base a queste poi ci comportiamo. Grazie. Grazie a tutti.